Il vero viaggio è la ricerca, non è la destinazione, ma è la riflessione attraverso le proprie memorie, attraverso quello che si vede, per cercare con occhi nuovi, per vedere con occhi personali quello che è già noto. Il punto di partenza di questa stagione è il Grand Tour, cioè il tour che facevano gli aristocratici del Seicento, che hanno iniziato nel Seicento a completare la loro cultura in Italia. Noi siamo abituati a vedere l'Italia in un modo completamente diverso e quindi riscoprire in un certo modo anche le nostre memorie, le nostre radici e dare all'Italia una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista e un nuovo valore all'artigianato, alle nostre bellezze, era un punto importante per riflettere sul nostro passato e sul nostro futuro. Si dice che il futuro abbia radici antiche, è il vostro caso questo? Credo che senza memoria tu non possa costruire un buon presente e un fantastico futuro. Tutto insieme serve per avere coscienza di quello che vuoi fare e che vuoi costruire. Sicuramente noi ci siamo portati a livello personale perché fa parte della nostra cultura personale, inoltre in un brand come il nostro dove comunque è un brand che ha una radice storica importante, ha 45 anni di storia, dove il fondatore, il signor Valentino, noi abbiamo lavorato, è necessario questo tipo di analisi perché non puoi pensare che questo non sia importante, questa convivenza e anche visione diversa del tuo passato, perché solo questo ti permette di fare del nuovo in realtà. Grazie.